Ah sì, ma abbiamo fatto delle trincee qua, abbiamo fatto delle trincee, abbiamo fatto anche un posto di accampamento per quando i tedeschi ci ammazzano. Allora io mi vorrei riposare qui tra poche notte. Allora, ciao. Allora, io mi addormento qui. Ragazzi, io mi addormento, se succede qualcosa svegliatemi. Sì, sì, ok, ti svegliamo. Ok, allora. State zitti, zitti, non avete capito. Che non vogliamo svegliare gli altri. Zitten. Va bene capitano, stiamo zitti. Sì, capitano. Va bene. Allora, quando io dico di attaccare, voi attaccate, avete capito? Sì, capitano, ho capito. Sì, capitano. Ok, quando io ti dico di sparare, spara. Va bene, capitano. Spara! Sì, capitano. Ah no, ci attacca, non ci attacca. Da dove, da dove? Ci attacca, non ci attacca. Spara, spara, spara. Smitraio, smitraio. Carapitano, mi hanno colpito le gambe. Non fa niente. Si ricorda. Oh no, capitano, capitano, si sente bene. No, no, aiuto, curami. Aiuto, curami. Risparo. Oh no, no, non ho così scolpito. Spara, capito, smitraio. Oh no, 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 no. Oh no, guarda. Oh no, quanto fa male. Oh no. Oh sì, sì. Ho fatto la medicina io. Beh, quei due sono veramente morti. Quei due sono veramente morti. Sono l'unica speranza io. Io sono l'unica... Ma che ho preso questo? Devo prendere la pistola perché... ho preso questo, ma la butto la siringa ma non c'è sta siringa di merla vai via ecco qua ecco qua allora spero un'altra volta se sto in piedi spero no cabbo cabbo ah si ho fatto come scuotere la mia arma sparo no eh ma che è successo? perché ho sentito gli spari? aspetta, aspetta devo prendere la mia pistola devo prendere la mia pistola aspetta ecco qua non so che vedo cosa è successo ho sentito i dischi io c'ho una staccata ma non c'è loro teee ma non c'è voi oh no ma non c'è uno ancora lì teee oh no 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 aiuto allora aiuto ci serve la radio ci servirebbe una radio per chiare le forze mi sono così colpito mi sono così colpito sti colpi va esco io esco fuori qua esco fuori ho fatto un'accomazione della madonna io lo smitraglio questo teee teee mi sono colpito in modo assurdo aiuto aiuto la mia io non ho più colpi ce ne ho solo 2 ho solo 2 colpi teee no ma già stai maio già stai maio ma già stai maio lo annaggia teee oddio mondo ah questo è il mio amico questo è il mio amico aspetta qui a dito c'è una borsa amica devo prendere qualcosa da questo per farmi vedere cosa c'è qui fammi vedere allora qui non c'è niente questo no questo no ecco questo è quello che va bene che mai che lo infilo nel sedere e starà come nuovo ed ecco fatto dovrebbe stare bene chi è stato a salvarmi chi è stato amico mio grazie che mi hai salvato grazie ti vorrei abbracciare però non so come si fa si fra ti ho salvato io allora fra mai capito cosa è successo si erano dei tedeschi e ci volevano attaccare e tipo hanno fatto questa cosa che ci volevano attaccare ok capito 9 io 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 comandare a tutti di attaccare tutte le zone degli americani 9 si 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 andiamo vai si si ma io ho paura di morire in questa guerra io sono scemo perché ci sono arrivato avevo fumato qualcosa prima di svegliarmi 100% perché ho paura di morire in questa guerra ho visto tu che morire non fa niente non fa niente mo sto bene quindi stiamo bene tutti e due quindi non piange non piangere non piangere mangia di qualcosa bevi di qualcosa perché è da un giorno che non mangi ah ah si è vero però noi non ho fame ah si non ho fame strano vabbè mangiaci vabbè mangiaci una pannocchia o qualcosa del mais ok va bene ehi ma ho sentito questo rumore io si io ma aspetta perché si è schiantato qui un'aerro aspetta perché si è schiantato qui un'aerro che fa luce che si è schiantato st'aerro ho capito oh nein nein devo attaccare devo attaccare nein aia nein ma che c***o è aah 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 aiuto 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 ci avete qualcosa qualcosa aiuto aah 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 e cosa c'ho con questi aah 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 Andiamo spara spara Сов aah oh no oh no aah oh no ci sono un mio amico aiuto 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 paura aah aaah aah aah Sì, che bello Questa cassetta di munizioni Ah, sì Qui c'è questa Sì, sì, sto bene Sto bene, sto bene Ah, ma io lo infelzo anche Allora, io sto bene Fammi riprendere la mia arma Ok, sì, poi andiamo Andiamo, ma io gli sparo a questo E gli sparo Oh no Fa male quanto fa male qui Questo quanto fa male Speriamo che viene Qualcuno ad aiutarmi Perché se no Io Voglio Sì, vedi Io tiro una granata Vai Oh no Mi tirano anche le granate Aiuto Aiuto Mi tirano anche le granate Oh no Oh no Vai via Oh no Lo sono tirato addosso io Sono scemo Io sono scemo Ah, ok Che non esploda Ah Aspetta, mi sembra che non arrivi in più Mi sembra Beh, mi sembra Suss Che non arrivi in più Anche se Un colpetto Lo tirerei Se c'è Un'altra Orda Lì Ok Ok Non ho sentito nessuno Che faceva niente Quindi Ehm Non è niente Allora Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo fatto L'abbiamo difeso Qui Molto Molto Very good Ah, sì Ok Ok, grazie Che ma lo vado a dire Capitano Capitano Abbiamo difeso Già tutto Ah, veramente Avete difeso Già tutto Bravi Vi Meritate Qualcosa Vi meritate Del cibo Una medaglia E' meglio Del cibo Perché Lui se l'ha mangiato Tutto Perché aveva Una fame tremenda Ehm Io sono stato colpito Al mio cibo Ehm Ehm Tutto Screpolato Tutto Una merla Quindi Meglio il cibo Ok Va bene Ok Abbiamo ripulito Tutti i corpi Ehm Io rimarrei qui Anche Un'altra Due ore Aspetto Perché Non ne arrivino Altri Perché Mi sembra Suss Che non